5 per un pacchetto, però ne ho trovate, però ne ho trovate una, ne ho trovate tutte assurde, tre comuni che sono, non sono come quelle standard, sono un po' più alte, quelle con il cristallo bianco, una leggendaria e una, questo pacchetto è stato bellissimo, il pacchetto migliore che ho trovato forse, per fare che, ah va bene ok, spero un secondo, non so se mette lì Sylvanas a sto punto, e la metto, non lo so, non ho capito bene, quella è la 5 levala, siamo forti questa carta, poi devo vedere, vabbè ora non posso fare niente, questa Sylvanas mi piace, è proprio il culo perché io l'ho andata in fegato, ispirazione, ma è bellissima quest'altra carta, io non so potuto averla, praticamente ogni volta, ah guarda, 4 punti di mana, 1 d'attacco e 8 di salute, praticamente ogni volta che uso il mio potere eroe, mi regina due salute al mio eroe, fortissimo, non sto guardando niente io, oramai, vabbè provo a guardare, vediamo se ci arrivo, ah ok lo vedo, finisica, bellissima la squadra di murloc, il cane che non c'entra, va bene ora col cane attacchi quello con provocazione, aspetta, come si fa, come si ha aumentato l'attacco, ah tutti i murloc, ah ok, aspetta, aspetta un secondo, aspetta un secondo, perché l'hai fatto, non dovevi farlo ora, vabbè comunque dai, va bene così, e l'hai ucciso in un paio di turni, in quanti turni l'hai ucciso, potresti vincere anche al prossimo volendo, oh ma veramente hai un culo e ti spaventai a fare le competitive, oh ma veramente l'hai ucciso, oh no, non l'hai ucciso, sono così, a presto check out, Grazie.